collega da posto che stai fa? ho trovato la macchina che mi serve si? seconda mano ha ottime condizioni e chiama scusa e non posso chiamare perchè? sta il nome cognome indirizzo però non ci sta il numero di telefono e il nome cognome sta? eh chiama servizio abbonato dimmi aspetta senza di me sei perduto pronto? senta un'informazione volevamo il numero di telefono del signor luigi rossi luigi rossi via tuturano bari? si bari via tuturano 13 13 ah va bene va bene vabbè la ringrazio arrivederci ma sapevi devi chiamare a metà dicembre come sei ha detto? mi ha detto devi chiamare il 14-12 non è che posso aspettare fino a dicembre per prendere la macchina sono stati chiari eh non è che dici è un'altra è un'altra è un'altra un'altra è un'altra è un'altra è un'altra è un'altra